amici di blog sicilia buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di approfondimento di talk sicilia oggi parleremo di un tema abbastanza importante che è quello dell'impiantistica sportiva a palermo siamo in studio qui con giulia noera che è una collega nonché un atleta buongiorno a tutti grazie dell'invito e allora noi cominceremo partendo dal dalla notizia di cronaca più interessante diciamo palermo notizia di questi giorni palermo ospiterà laddove l'italia dovesse vincere la candidatura le alcune partite dei campionati europei del 2032 campionato europei di calcio del 2032 tornando ospitare una manifestazione calcistica internazionale dopo i mondiali del 90 quindi parliamo di saranno oltre 40 anni 42 anni in quel periodo lo stadio tenso barbera fra cento anni tutto bello tutto fantastico però a palermo manca un po il resto a partire dal resto dell'impiantistica dei impianti vicini anche allo stadio tenso barbera come ad esempio quello della piscina comunale che di recente ha riaperto dopo diversi giorni di chiusura per la legionella però è stata una chiusura dolorosa anche per alcune per alcuni club che fanno sport a livello a livello nazionale alimenta internazionale palermo colteli ma ha perso la possibilità di ospitare un girone della lenne euro cap che per intenderci è una sorta di coppa di euro league nel calcio la euro league nel calcio della pallannuoto quindi immaginate se il palermo per mancanza di un impianto non potesse ospitare le partite della dell'euro league di calcio ecco noi siamo qui a parlare neanche con giulia che è una nuotatrice importante che ha vissuto e che vive quotidianamente a questi problemi della dell'impiantistica sportiva nella piscina ma anche di altri impianti e allora intanto grazie edoardo di questo invito che mi dà la possibilità di esternare un po a nome di tutte le persone che tutto il movimento si occupano a vario titolo di sport o che praticano sport in questa città e che purtroppo paradossalmente pur potendo essere realmente una città quasi dedicata allo sport per questioni climatiche o anche strutturali si trova da tantissimi anni a combattere quasi quotidianamente questa questione delle problematiche legate all'impiantistica ora io ho un'età in cui posso serenamente ricordare diciamo lo sport a palermo fra gli anni 70 e gli anni 80 non diciamo l'età allora invece come dico io l'età la posso nascondere poco perché il nuoto master divide poi le persone in categoria da cinque anni a cinque anni quindi quest'anno già in corso sono stato un m55 quindi c'è poco da nascondere però come dico sempre io per fortuna lo sport riesce a mantenere abbastanza bene e stavo dicendo lo sport a palermo comunque funzionava e ha funzionato anche negli anni 90 in maniera assolutamente importante nel 97 è una data secondo me un po spartiacque perché le universiari perfetto esattamente perché palermo la sicilia in generale sì sì no sicilia in generale anche messina la sicilia fu deputata come sede delle universiari e quindi arrivarono dei fondi con questi fondi si cominciarono a diciamo sistemare alcuni impianti gesistenti tra cui per esempio la piscina comunale sulla quale faremo una discussione a parte e ne sono stati fatti di nuovi come per esempio il diamante del baseball che fu inaugurato se non ricordo male in pompa magne questo preludeva una stagione entusiasmante per lo sport in città invece purtroppo devo dire che non solo non è stato così paradossalmente dalla fine degli anni 90 in poi si è assistito sempre di più a un decadimento un po dello sport in generale e anche del criterio proprio dello sport e dell'importanza che lo sport aveva in città perché lo sport io dico sempre non è soltanto io sono una sportiva agonista da sempre ma lo sport non ha soltanto una valenza prettamente agonistica e lo sport ha una valenza enorme sotto il profilo sociale porta una valenza enorme sotto il profilo sanitario quindi insomma c'è chi parla anche di prevenzione assolutamente a livello sanitario si parla addirittura di prevenzione se si fa una buona pratica buona e corretta pratica sport ma guarda edoardo dico ci sono statistiche che assicurano che ogni euro dato allo sport fa risparmiare circa cinque euro sulla spesa sanitaria quindi è una spesa decuplicata però dico al di là di tutte queste considerazioni tutte valide perché ripeto lo sport non è soltanto lo sport agonistico il calcio le partite di calcio lo sport ha una valenza veramente a 360 gradi per una città per una regione quindi è anche secondo me un errore politico aver dimenticato lo sport mi fa venire in mente una cosa una domanda che perché la piscina olimpica la piscina olimpica chiaro la piscina comunale ha riaperto da qualche giorno dal discorso legionella però è da inizio anno il questo impianto ha dei dei problemi perché ha delle aperture a singhiozzo ecco questa apertura a singhiozzo fanno male all'attività di base quella di cui in realtà fanno male a tutti fanno tutto ma fanno a tutti fanno malissimo abbiamo visto che fa male ma anche ma anche a voi atleti che vi allenate quotidianamente tu hai affrontato un campionato europeo vincendo anche una medaglia d'oro e se non ricordo male cinque ma una nella staffetta e quindi diciamo hai portato anche lustro al livello master però non ti sei potuta non vi siete potuti gli atleti palermitani non si sono potuti allenare costantemente alla piscina in piscina quindi questo così come altri tanti amatori e quindi questo si capisce bene che è un problema allora guarda edoardo io minimizzo un po il mio ruolo personale cerco sempre di astrarmi di parlare un po in generale è vero che chiaramente allora un impianto chiuso tra l'altro un impianto come la piscina olimpica comunale di palermo che paradossalmente è io ho girato impianti di tutta europa certamente e anche qualcuno fuori dalle europa devo dire che la piscina olimpica di palermo è un impianto stratosferico sotto tanti punti di vista intanto ha due vasche da 50 metri adiacenti in italia se ne trovano soltanto altre tre ma è difficile che funzionino contemporaneamente proprio per la caratteristica che a palermo di essere una città calda in cui la vasca scoperta si può utilizzare 365 giorni l'anno e tutto questo poi si perde però nell'amministrazione di questo bene ora voglio fare due discorsi che io dico io dico sempre potrei parlare della piscina comunale non per 24 minuti ma per 24 ore però dico sempre voglio allargare il discorso un po a tutta l'impiantistica è a chi fa sport in generale allora lo sport si divide in sport d'elite e in sport di base lo sport d'elite per esempio a riguardo della piscina olimpica porta dei grandissimi danni quando si ferma un impianto di questa portata perché per esempio una squadra di a1 come il telemar che l'anno scorso ha fatto un campionato egregio e quest'anno ha conquistato la possibilità di riaccedere alle coppe europee è costretta non ospitare la sua fase in casa perché purtroppo la piscina olimpica non da garanzia sotto la cosa a noi e anche a chi ci seguirà chi ci segue l'anno scorso il terremoto ospitò un girone di lane cup lo dovete fare a porte chiuse erano regole sul coppito ma c'era anche il problema della famosa agibilità che poi venne risolto un pochettino verso il finale di stagione tant'è che la finale di andata di quella famosa lane cup che si giocò a marzo mi pare con il sabadell l'andata venne giocata col pubblico e ci sono anche le istituzioni presenti perché chiaramente un evento e faccio sempre di nuovo il raffronto pensate il palermo in finale di europa league quindi tornando allo sport d'elite chiaramente una chiusura come un impianto di un impianto come quello della piscina un impianto chiaramente crea un grandissimo danno economico di immagine alla città noi avevamo i campiati europei calendarizzati per fine agosto abbiamo trovato la piscina chiusa tutto il mese di agosto e siamo stati costretti a migrare dovunque pur di allenarci e ma soprattutto perché io dico sempre lo sport è fondamentalmente una tutela sociale che dovrebbe essere accessibile a tutti in un momento in cui normalmente tutte le piscine pubbliche d'italia non solo aprono aprono ancora di più a tutti proprio per sopperire a chi magari durante il periodo lavorativo non può accedere a fare sport e invece è stata chiusa chiaramente ricordiamo che era anche sempre una chiusura tra virgolette prementivata perché c'è sempre questa chiusura sì però però quello che vorrei che fosse cambiato nel paradigma generale allora lo facevamo poco fa microfoni spenti tutte cose tutto quello che noi abbiamo nella nostra vita chiaramente e deve usufruire positivamente di una volontà politica nel senso che anche lo sport è legato a una serie di decisioni una serie di faccende che hanno a che fare con la politica purtroppo le amministrazioni precedenti non sono state molto indulgenti con lo sport e diciamo mi fermo qui con lo sport in questa città per cui noi abbiamo risentito soprattutto nel primo tempo della dell'insediamento del nuovo consiglio comunale del nuovo sindaco dei nuovi assessori chiaramente di un retaggio assolutamente precedente di dieci anni precedenti in cui devo dire è stato veramente un disastro e d'altronde ehm lo stato degli impianti pubblici palermitani dico grida a gran voce non c'è bisogno che nessuno ne faccia una questione politica anche perché come dico sempre lo sport è assolutamente materia trasversale è politica e comunque è assolutamente una materia trasversale è molto lo stato degli impianti sportivi palermitani è sotto gli occhi di tutti non c'è neppure da caricare sì e paradossalmente dico sempre che tutto sommato la piscina olimpica eh che è rimasta in vita pur essendo un impianto difficoltosissimo perché non si può paragonare chiaramente la piscina olimpica a nessun altro degli impianti pubblici perché la difficoltà di mantenere ehm diciamo in vita è accessibile le due vasche quotidianamente non solo con tutta l'utenza che c'è ma anche con le difficoltà in questo momento economiche energetiche eccetera eccetera le due vasche vanno comunque riscaldate e se non fosse per la buona volontà di chi all'interno della piscina olimpica ci lavora ovvero tutte le società che spesso vengono bistrattate ma che sono veramente il sostegno di questa di questo impianto probabilmente questo impianto avrebbe fatto alla fine se non peggio del palazzetto dello sport nel senso che se ci fossimo solamente dovuti affidare all'amministrazione comunale precedente penso che veramente non sarebbe chiusa sarebbe chiusa come altri impianti diciamo che le situazioni del degli impianti come dicevamo sono drammatiche pensiamo al velodomo velodomo non fa più praticamente non ci sono più attività ciclistiche che velodomo è un impianto proprio adatto è un impianto costruito tra l'altro hanno ospitato i mondiali del 94 quelli su pista in una settimana mondiale in cui nel 94 ci fu la finale online del classico ciclismo su strada su alla valle dei tempi dell'agrigento quindi fu un'edizione spettacolare però il velodomo adesso ospita concerti ma non si riesce a trovare la quadra per riuscire a sbloccare una situazione ora si stanno muovendo alcune cose chiaramente però il velodomo ancora non può ospitare alcuna alcuna gara ciclistica abbiamo parlato del diamante che è diventato una pietra grezza e abbiamo parlato del palazzetto di fondo patti via dell'olimpo che è chiuso da tre quattordici anni da aprile del 2008 per quella famosa tomba d'aria insomma la situazione quella che è ma sono occasioni perdute occasioni perdute perché ad esempio non verrà mai una nazionale italiana di pallavolo a fare amichevoli o qualificazioni mondiali o europee perché non c'è un impianto adeguato e quindi tanti ragazzini tante ragazzine non potranno vedere i campioni o le campionesse che questi sport offrono ed è uno spettacolo che vi posso assicurare che è veramente eccezionale non lo conoscono il basket stesso discorso perché se non si ha un impianto importante come il palazzetto dello sport si perdono tante occasioni ma anche il velodomo la nazionale italiana si allena a noto ma potrebbe venire tranquillamente a palermo con tutto quello che ne conviene indotto e tutto il resto ma infatti la discussione secondo me è esattamente questa come ci dicevamo prima di iniziare questa conversazione diciamo per tutti chiaramente la volontà politica è fondamentale anche per la risoluzione di tutto un comparto e di tutto un movimento che chiaramente è anche un indotto economico non soltanto un sostegno sociale a una popolazione ma comunque è un indotto economico perché non dimentichiamo che grossi eventi sportivi trasportano anche tanto turismo trasportano dunque anche tanta economia c'è un turismo legato allo sport e guarda paradossalmente ora spezzo una lancia a favore dello sport master perché ormai è molto praticato nel senso che per fortuna anche le persone che non sono più giovanissimi quindi lo sport non è più per giovanissimi ma ormai è diventato veramente per tutti e questo è una cosa molto bella comunque un indirizzo che le persone praticanti hanno avuto negli ultimi anni quindi lo sport master ha preso molto piede io racconto sempre una cosa è l'evento più partecipato al mondo dopo la maratona di new york sono stati i mondiali di noto master nel 2012 a riccione c'erano oltre 18 mila partecipanti e questo partecipanti ma con tutto quello che c'era intorno accompagnato di tifosi quindi che cosa che cosa succede quando si creano comunque eventi grossi c'è anche un turismo che si muove dietro io sono ottimista devo dire nel senso che secondo me in questo momento per fortuna si sono come dico io allineati un po i pianeti perché a volte sai anche il contrasto politico fa tantissimo e ripeto lo sport dovrebbe essere un argomento assolutamente trasversale perché lo sport è veramente per tutti e di tutti e quindi dovrebbe essere un qualcosa di perorato in generale secondo me in questo momento la situazione io la vedo positiva e propositiva abbiamo un diciamo un consiglio cittadino che si è insediato da pochi mesi e che soprattutto in questo comparto con l'assessore figuccia ha dimostrato comunque di essere attento e presente lo posso dire con coscienza nel senso che comunque si è mossa tantissimo per quello che è stata chiaramente chiamata a vedere e a provvedere non dico a risolvere perché diciamo è difficile la speranza è che questa candidatura ad euro 2032 se vada a buon fine per l'italia quindi consentirà parliamo di ospitare gli europei sia da volano perché la diciamo la condizione di altri impianti sportivi vengano migliorati il sindaco la galla aveva parlato anche nei giorni scorsi tra l'altro io confido molto anche nel governo regionale che si deve installare da poco perché secondo me se c'è una vera intenzione politica di risollevare la sicilia da questo comparto che quello sport è legato spesso anche al turismo secondo me è una cosa buona io ripeto sono ottimista da questo punto di vista perché ho ascoltato hai seguito e con questo ottimismo che speriamo di trasmettere anche agli altri vi salutiamo perché il tempo è tiranno e vi diamo appuntamento al prossimo approfondimento con talk sicilia grazie